Buongiorno! In questo momento mi trovo a casa mia, ma il weekend l'ho passato finalmente con i miei cattori! Era infatti da Natale che non scendevo giù a trovare i miei e che quindi non vedevo i miei gatti. Mi erano mancati tantissimo e quindi è stato veramente bellissimo poterli riabbracciare, rituffare la mia faccia nel loro pelo, coccolarli, giocare con loro, beccarmi i morsi e i graffi della cibi! Ho girato qualche clip del mio weekend, in realtà sono stata meno di due giorni, tra l'altro ho avuto tantissime cose da fare, un po' per il matrimonio, era anche il compleanno di mia suocera, non ho avuto quindi molto tempo a disposizione, però ho cercato di farmelo bastare. Tra l'altro poi appena tornata a casa mi sono andata subito ai lavori perché ho portato su quattro scatoloni di libri fumetti, quindi ho cercato di riorganizzare la libreria, altre cose per la casa, quei due panni che mi erano rimasti da portare su, qualcosa per il balcone... Dal momento che anche nello scorso vlog vi ho fatto vedere comunque un po' di riordino, un po' di sistemazione della libreria, dell'armadio eccetera eccetera, non sto a farvelo vedere anche qua. Mi piaceva poi l'idea di avere un video con un po' di clip dei gattoni, come vi dicevo non ho avuto molto tempo e non ho ovviamente ripreso tutto perché il telefono e la videocamera li ho lasciati veramente sempre in disparte, ho cercato di vivermi tantissimo il momento di quindi passare il più tempo possibile con la mia famiglia, con i miei gatti, ritornare poi anche nella mia camera che i miei hanno un po' rivoluzionato, hanno spostato un po' di cose, è stato molto bello ma anche strano. Lì poi tutto è in mezzo alla natura, è molto tranquillo, mi manca un po' comunque vivere con i miei, i miei gattoni, quella che era casa mia alla fine e che penso sarà comunque sempre anche casa mia. E nulla, spero che queste clip un po' giocose, un po' gattose possano piacervi e tenervi un po' di compagnia. Sì, 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 sì. Gattina furbina, gattina furbina! Eh, vorresti uscire, vorresti uscire ma non si può, non si può, dal balcone non si può! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Non riesco a metterti a fuoco, Gibi. In tutti i giochini che avete dovete giocare con l'immondizia. Cibi. Guardate che roba. Che se l'ha fatto di male con la penna? La cibica è la cibica numero uno delle penne. Cosa ti ha fatto? Nooo, è andata sotto al letto. Nooo, è andata sotto al letto. Ciao. 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 Ciao.